Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Venerdì 19 ottobre 2018, anche questa mattina siamo con voi nelle prime ore del mattino per il nostro primo appuntamento di giornata con l'informazione, sapete, la mattina è il nostro sguardo sui quotidiani, il centro, la città ed il messaggero dove andremo ad analizzare i principali fatti della giornata di ieri presenti sui quotidiani, con grande attenzione come sempre alle pagine terramane. Poi il nostro primo appuntamento con il talk, il nostro primo momento con un ospite, questa mattina torneremo a parlare del comune di Tortoreto, qualche settimana fa abbiamo ospitato l'assessore Giorgio Ripani, oggi guarderemo le cose di Tortoreto, dell'amministrazione di Tortoreto attraverso gli occhi di un consigliere d'opposizione, ci sono fatti che abbiamo analizzato nelle ultime settimane insieme al Nico Carusi, oggi, anzi questa mattina proveremo ad approfondirle attraverso una chiacchierata con lui, tra l'altro insomma non lo faccio mai, lo facciamo questa mattina. Vi volevo subito ricordare il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, per fare domande al nostro ospite di questa mattina, il numero è il 3688011328, questo è il nostro numero per darvi la possibilità appunto di partecipare con noi al nostro primo appuntamento con l'ospite e poi come sempre la giornata del Super J proseguirà con l'informazione. Ma intanto cominciamo a guardare i quotidiani, questa mattina partiamo dal quotidiano La Città, il titolo riguarda la cronaca giudiziaria perché è a processo la banda della marmotta, dieci accusati per la lunga serie di assalti agli sportelli Tercas distrutti con l'esplosivo, vicenda che molti di voi ricorderanno. La foto centrale riguarda un argomento che poi ritroveremo su altri quotidiani, trattato in modo diverso, ma la città dedica la foto centrale, la guerra dei viadotti, divieti e limitazioni per il traffico pesante, inchiesta sui distacchi a San Giacomo, strada dei parchi, smentisce il ministro. E poi sotto la foto il titolo riguarda lo sport e in particolar modo il calcio con il Teramo in primo piano, un talismano di nome Caidi, se segna il centrale il Teramo porta a casa i tre punti. Mi spalla la vicenda del consigliere Verna che lascia il Partito Democratico e entra nel misto con l'ex leghista. E poi di taglio alto, Palazzo Pompetti, intanto partono i lavori dei privati. Il palazzo danneggiato dal sisma, ancora in alto per ciò che riguarda Givanova, Lido delle Palme, sufficiente il voto in giunta. Infine Mosciano Sant'Angelo, niente più case da battere in zona marina. Ancora la prima pagina della città, Paese in lutto per la morte di Lea Montauti, domani l'addio. E poi in vibrata Tortoretano arrestato, semina panico con l'auto lungo la pista ciclabile. Ancora sotto il titolo dedicato a Verna, Silvie riprendono i lavori contro l'erosione. E a Roseto degli Abruzzi mai pagato il terreno del distretto Asle. Poi televisione, le ceppe civitellesi stamattina alla prova del cuoco sul Rai 1. Poi vedremo come. Cominciamo a sfogliarlo. L'argomento principale, pagina 3, sulla città. Limitazione nei mezzi pesanti su 87 viadotti. Intanto la Procura dell'Aquila apre un'inchiesta sulla sicurezza dei pilassi dopo il caso del viadotto San Giacomo. In alto la reazione del MIT all'avanzato stato di degrado manutentivo riscontrato rendeva necessario un immediato intervento di ripristino e il consolidamento delle strutture, oltre che un approfondimento di calcolo. La foto del ministro Toninelli e questa vicenda. Intanto già avviati otto cantieri nonostante il blocco dei fondi. L'amministratore delegato a Ramadori. Tutta l'Italia deve essere adeguata, ma solo noi siamo presi di mira. Questa è ovviamente la reazione di strada dei parchi. Vicenda che troveremo anche sugli altri quotidiani e che andremo a rimarcare anche più tardi. Torniamo al titolo e all'argomento con cui la città ha praticamente impostato il titolo principale in prima pagina. La banda della Marmotta va a processo. 10 persone accusate per la lunga serie di assalti con l'esplosivo ai danni degli sportelli Tercas. Rito immediato. A novembre il processo abbreviato per la banda composta da Foggiani, compresi i due basisti residenti. Però ha Tortoreto una foto che ricorda alcuni dei colpi messi a segno dalla cosiddetta banda della Marmotta con anche le foto delle attrezzature sequestrate alla banda. Il colonnello Naselli, il tenente colonnello delle Grazie. Ricordiamo per un attimo questa vicenda. Finiscono dunque a processo. I diceri stati lo scorso maggio dai carabinieri di Teramo. Ad oggi tutti ammessi a misure alternative o rimessi in libertà dopo settimane di custodia cautelare in carcere. In carcere, scusate, all'esito dell'operazione ribattizzata Hot Banks. Si tratta di Massimo Furio, 38 anni di Orta Nova, Foggia. Gabriele De Simone, 33 anni di Cerignola. Luigi De Simone, 58 anni di Orta Nova. Giuseppe Pugliese, 40 anni di Cerignola. Eugenio Cinque Palmi, 30 anni di Cerignola. Vincenzo Capone, 36 anni di Stornara. Pietro Intensa, 42 anni. E Michele Intensa, 21 anni, padre e figlio, entrambi di Tortoreto. E poi Vincenzo Serra, 33 anni, di Barberino del Mugello. E Leonardo Ferrara, 35 anni, Foggiani. Sono accusati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, finalizzato a furti in danno di Bancomat, detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, furto aggravato ai danni di Bancomat e targhe di autovetture, danneggiamento degli stabili dove sono state compiute le azioni delittuose e attentato alla sicurezza dei trasporti. In provincia di Teramo nel 2017 sono stati messi a segno 16 assalti ai Bancomat in cui in 15 casi i dispositivi erano della popolare di Bari, Exterca. Solo 4 i colpi sfumati, ma dal 2016 al 2018, ad inizio del 2018, a guati simili sono stati in tutto 21, ricorderete questa vicenda. Continuiamo nella stessa pagina, a Teramo, cultura e cibo per tre domeniche pretuziane con Slow Food e Meat, varato il progetto pilota per valorizzare i luoghi del centro, i ristoranti tipici e i piccoli produttori locali. Pagina 6, Palazzo Pompetti, intanto partono i privati. In attesa della decisione del Comune il condominio ha rotto gli indugi sulla messa in sicurezza. Il taglio alto, i condomini, gli studi professionali e le attività dei portici hanno scelto di affidarsi alla ditta Falone Costruzioni R. Poi politici salvi, niente puntelli e mantovane lungo i portici di fumo. Il passaggio resterà libero, importante per la quotidianità di uno dei luoghi più importanti, se non il più importante della città di Teramo. L'emendamento, parcelle anticipate del 50% per i tecnici coinvolti negli interventi privati, ossigeno per i professionisti della ricostruzione. A pagina 7, la vicenda che riguarda lo scontento. Verna che ha lasciato il PD, dopo vent'anni di militanza, il consigliere di maggioranza è passato al gruppo a misto. Niente assessorato, niente Presidente del Consiglio, poi rinuncia al ruolo di capogruppo e lascia il direttivo PD. Di spalla con vegno e veglia, la diocesi celebra il cinquantesimo della missione in Burundi. Continuiamo a scorrere. L'ANCOT in audizione alla Camera. Il Presidente Arvedo Marinelli. Abbiamo fornito il nostro contributo basato su 34 anni di esperienza sul campo. Incontro ANCOT su fatturazione elettronica e legge di stabilità. Oggi è la sala convegni della LAS Mobile. La giornata di studi dedicata ai consulenti di Abruzzo, Marche e Bolise. Scendiamo. Strada pericolosa, niente scolabus. Siamo nella città di Teramo. Servizio sospeso per motivi di sicurezza per tre bimbi nelle zone più isolate di Miano. La foto di uno scolabus è quella di Maria Cristina Marroni, vice sindaco della città di Teramo. La soluzione? L'amministrazione pensa ad un servizio sostitutivo in auto per garantire il trasporto scolastico. Unite e Sinoe, oli essenziali, Netaneo, il congresso della società italiana. Iniziativa all'Università di Teramo. Ancora allarmismo sull'armante stato del ponte. Un gioco di parole in questo titolo. La buca segnalata da un automobilista fa scattare un'altra serie di controlli sul San Gabriele. Niente di nuovo. Dice la città. Il ponte è messo male. Il soprologo di ieri conferma però che la situazione non è comunque peggiorata. E poi la segnalazione a semaforo spento. Botto evitabilissimo in Viale Crispi. E poi Ancona. Fenice in scena per solidarietà all'Avis. Ancora un intervento e un'iniziativa della Fenice. Scendiamo. Ripristiniamo ovviamente il formato originale della pagina del centro. siamo in provincia. Il delitto di Alba, ammazzato in mezzo alla strada per gelosia, depositate le motivazioni della condanna a 30 anni per il delitto del Rom 22enne Manuel Spinelli. L'assassino Fitim Koldashi, definito da giudice uomo di onore e di coltello, vedeva nel Rom un rivale in amore. Pietracamela, paese in lutto per la scomparsa di Lea Montauti. Ancora, sempre in provincia, doppia festa nel fine settimana per la castagna di Senarica. Sarà premiato con l'unzite d'oro, l'amministratore delegato di Ikea Italia, Belen Frau, per la donazione della scuola. Crognaleto, questo il teatro della notizia. Poi in Val Vibrata, l'ambasciatore visita Denis Cavatassi, incontro in carcere con l'imprenditore condannato a morte in Thailandia. Cavatassi è in attesa della decisione della Corte Suprema e è stato condannato per l'omicidio del socio a Martinsicuro. Il virgolettato di città attiva, con la foto dell'ex sindaco Paolo Camaglioni, interventi finanziati solo attraverso nuovi mutui. Continua il clima di contrapposizione fra città attiva e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Bagnoni. E poi la cronaca Tortoreto, ragazzo di Tortoreto, arrestato dopo un inseguimento e l'aggressione ai carabinieri, semina il panico con l'auto lungo la pista al ciclabile. La foto del arresto del giovane. Poi abbiamo visto anche nel titolo in prima pagina, le ceppe civitellesi alla prova del cuoco della Gioardi. L'inviato Ivan Bacchi sarà oggi in fortezza per presentare il piatto tradizionale. La foto è quella della nuova conduttrice della commissione di Rai 1, Elisa Isoardi. A Giulianova poi il titolo principale, con Trada Marina, conclusa la demolizione, rimossi tutti gli edifici sanneggiati dalla Maxi Frana, iniziata 5 anni fa. La preoccupazione tra gli sfollati regna la ristognazione per le poche certezze arrivate dall'istituzione. Di spalla a sinistra, Franco Arboretti convoca la stampa per analizzare la situazione politica e poi conviviale, Valeriano e Minore, ospiti del Rotary. In basso si accende la discussione a Giulianova sul progetto Lido delle Palme. Il Movimento 5 Stelle vuole il passaggio in consiglio, il consorzio dice però, già approvato. In giunta. Roseto, Pineto, Atri e Silvi. A Roseto mai pagato il terreno del distretto Asano. Dopo 20 anni il Comune di Roseto scopre di vantare un credito da 56 mila Euro. L'atto dimenticato, la vendita del terreno non è mai stata perfezionata con l'atto perso tra le scartoffie. E poi a Pineto i bambini delle elementari sono ospiti del Sindaco in Municipio, l'iniziativa che abbiamo seguito anche con un nostro servizio da parte del nostro inviato a Pineto. Ancora Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Spiagge cancellate ripartono i lavori per i frangiflutti di Silvi. Dopo lo stop durato un anno l'opera verrà completata nella speranza di farne un attracco per natanti. A Silvi una mozione per avere aria riservata ai disabili nei pressi delle scuole. Infine Atri, la cooperativa all'elefante viola di Atri, apre le porte ai cittadini. Il centro di supporto per la famiglia, l'individuo è il minore nel mese di ottobre, promuove la conoscenza del affido. Le pagine di cronaca che scorriamo velocemente per andare allo sport. Siamo andati troppo oltre, torniamo alla pagina principale che riguarda il Teramo. Talismano Caidi se segna e il Teramo vince. Il centrale in gol con la Fano buca sempre la stessa porta, ma quando va in gol i tre punti sono in tasca. Intanto un nuovo innesso nello staff, Simone Fugalli, ex preparatore atletico della San Benedettese, affiancherà Daniel Perazzolo nel lavoro sulla prima squadra. Domenica intanto si torna in campo al Brianteo contro il Monza, turno impegnativo. E poi il basket, il basketball Teramo. Nel weekend inizia il campionato di Serie B. I biancorossi, allenati da Giosuè Passacuale, presentano la squadra a spazio ai giovani con il sogno di andare ai play-off. L'ultima pagina dello sport della città è come sempre dedicata al calcio CSI, dove sorridono le big del Girone A. Vittoria in trasferta per le prime quattro in classifica del raggruppamento Teramo. Ecco qua. Abbiamo dunque chiuso con la pagina della città con cui abbiamo iniziato. Abbiamo ora il tempo di guardare quello che è scritto questa mattina sul centro. Questa è la prima pagina che vi mostriamo con l'ausilio della regia. Il titolo del centro è sulla vicenda dei pregari della ASAC, dove scadono 191 contratti. Servizi a rischio negli ospedali terramani. Appello dei sindacati alla regione. E poi di taglio alto A24 e A25, ve lo dicevo, la notizia che ovviamente ritroviamo trattata anche sugli altri quotidiani, come il centro che in prima pagina usa il taglio alto al via, i limiti al traffico. Il ministro Toninelli, sicurezza inadeguata, il gestore replica, sblocchi i fondi. Poi l'intervista a Bacca, Movimento 5 Stelle, rimediamo agli errori di chi ci ha proceduto. La protesta però, i governatori senza poteri al tavolo post-sisma. L'ira della regione è dirottata, dirottati su Roma i fondi per i fiumi abruzzesi. Continua la polemica con la regione Abruzzo. La foto centrale riguarda la frana di Ponzano, dove arrivano 3 milioni e mezzo per la frana, la frana di Civitella distrutta. Questa foto, che è un po' il simbolo di quello che è successo in quella zona. E poi a sinistra Teramo, campi sportivi in allarme nelle piccole società, politica Teramana, Verna, via dal PD, ma rimango in maggioranza. E poi lunedì c'è l'elezione. Chi è Gravina, dal miracolo Castel di Sangro alla Federcalcio. Gabriele Gravina, che sta per essere eletto nuovo presidente della Federcalcio. E poi il concorso Pallone d'Oro, voto la Bursette più bravo. Questo è un concorso del centro. Andiamo velocemente a vedere, anche in questo caso il traffico limitato sulle autostrade, sicurezza sulla 24 e la 25. I tir andranno in fila indiana, vietati la sosta e i sorpassi. Il ministro Torinelli dice standard di sicurezza inadeguati. La foto di alcuni piloni, dove si vede qualche segno di deterioramento. Questa è la foto scelta. E poi a Ramadori, come abbiamo visto che dice il ministero, sblocchi i fondi. Noi presi di mira, ma scopriremo il perché. Queste le parole dell'amministratore delegato di strada dei parchi. Intanto, Migliorino, non indagate resistenza e aderenza tra i ferri di armatore e calcestruzzo, né installati i sensori. Crediamo che il ministero non abbia neppure consultato i progetti di adeguamento antisismico sui viadotti. Questa ancora la replica di strada dei parchi. E poi Casini. Il governo faccia chiarezza la mobilitazione degli amministratori. Per il sindaco di Sulmona ci sono rassicurazioni da parte del gestore. E poi Vacca, che dice che per questo governo la sicurezza è prioritaria. Il sottosegretario Movimento 5 Stelle. Soldi per i lavori già disponibili e progetti al vaglio del mito. Oggi noi stiamo mettendo riparo ai disastri provocati dai nostri predecessori. E poi due poliziotti vicini al punto in cui è caduto il materiale. La protesta del sindacato dopo l'episodio di Pratola. Velocemente a guardare le pagine dedicate all'Abruzzo. Eccolo qua dove manutenzione e corsi d'acqua. Dirottati a Roma i soldi per i fiumi. L'autorità di Bacino sposta sulla capitale i 10 milioni destinati all'Abruzzo e le altre regioni sull'Apennino centrale. L'assessore Bernardinetti, un altro sgarbo verso la regione. Chiederò al ministro Costa di Riaprire nel merito la discussione e rivedere la decisione. E poi i presidenti contro il governo. Senza poteri al tavolo postismo. I governatori dimissionati da subcommissari e farabollini strumentalizzano. Ovviamente polemiche in corso. Fondi europei con fidi esclusi dalla gestione. Compensi in anticipo ai professionisti della ricostruzione. Approvato un emendamento di tre deputati abruzzesi Movimento 5 Stelle. Ai tecnici sarà liquidato subito il 50% delle parcelle. Ancora in primo piano in Abruzzo. Poi la pagina di tre deputati. Precari a rischio negli ospedali. I sindacati intervengono alla regione. CGL e Cislequille sollecitano una riunione urgente tra l'assessore Paolice e il direttore generale ASL. L'obiettivo è evitare che i 191 contratti a termine non vengono rinnovati e si blocchino i servizi. Era il titolo della prima pagina. E poi al Mazzini c'è il finto processo a un medico. Simulazione con veri avvocati e magistrati per spiegare agli operatori sanitari come evitare contenziosi. Poi l'allarme delle società sui campi sportivi. Gli impianti nelle frazioni sono inadeguati e contributi del comune insufficienti. Pirocchi, se non si cambia, li chiudiamo. E poi Di Sabatino e D'Alberto sono soddisfatti per l'accordo cassa integrazione ai dipendenti ipersimpli. Ieri la conclusione della vicenda con la foto dell'incontro. E poi video sorveglianza nei comuni del catere sismico 2009. Andiamo all'addio di Verna. Con certi dirigenti dice Verna non si può restare. Il consigliere non lascia la maggioranza, ma sarà critico. Sono stanco di logiche che sfuggono al buonsenso. Continuiamo a scorrere al via di itinerari in città tra cultura e gastronomia. Partono le domeniche pretuziane con Mercato della Terra e Slow Food. Ancora a guardare la banda dei bancomat esplosi. In dieci vanno subito a processo. E poi sulla frana di Ponzano arrivano 3 milioni. Stanziati i fondi per mettere in sicurezza l'abitato. Ora serve il progetto e poi sarà bandito l'appalto. La cronaca con il colpo fallito alla sala scommessa e a Sant'Egidale dei Brati. I ladri sfondano la sala cinesca, ma devono fuggire senza bottino. Sempre a Sant'Egidio, scoperti due chili di marijuana in un autolavaggio di Sant'Egidio alla Vibrata. Alba il ricorso sulla nuova scuola. Il comune va in giudizio al Tar. L'ente difenderà la procedura per l'affidamento dei lavori impugnata da una ditta esclusa dall'appalto. Udienza fissata a mercoledì. Il giudizio riguarda il secondo stralcio dell'opera finanziato con 1,1 milioni. E poi l'omicidio a Spinelli. Non fu legittima difesa. Alba Adriatica le motivazioni della sentenza di condanna a 30 anni per l'albanese Coldasci. A Giulianova, Exag via la procedura per la bonifica. Il comune invia dieci ditte. I lavori sono quelli che riguardano l'inchiesta che ha portato quattro persone a giudizio. Molto velocemente a scorrere l'illuminazione pubblica. Il comune accedera sul project financing. Tacchetti, lunedì, il consiglio ratifica uscito dalla stazione unica appaltante della provincia. Ci auguriamo di ridurre i tempi e avviare subito i primi interventi sul lungomare. È stata alle 16. Questo il titolo di Roseto. Scorriamo e andiamo a guardare lo sport. Sul centro con la pagina dedicata alla terra. Intanto da Cassetti Sangro alla FIGC, l'ascesa di Gabriele Gravina. E sul Teramo, ancora l'attenzione su Caidi. Amuleto del Teramo, con i suoi gol, vince sempre il svinciore bianco-rosso. Porto fortuna, questo successo ci dà più fiducia. Il cambio dell'avventore, comunque una sconfitta. Esame di coscienza per tutti. Poi Di Renzo è il nuovo tecnico del Motignano in promozione. Calcio a sette al via, tutti a caccia dell'Astor Santos. E poi l'iniziativa con il concorso del centro. Abbiamo la possibilità di dare attenzione anche al messaggero. Cominciando dalla pagina brussese. Il titolo è sulla vicenda autostrade. Scatta l'inchiesta alla procura per un fascicolo. Dopo la caduta dei pezzi di calcio e struzzo da due viadotti. Toninelli, margini di sicurezza molto limitati. Chieste limitazioni al traffico pesante. Tanto stasera il calcio, il Serie B, pescara alla Spezia per conservare il comando. Lanciano, case svaleggiate in azione, una nuova gang. La cronaca di Lanciano, città blindata, ma i ladri entrano in un'abitazione. Addio a cassaforte. E poi continuiamo a scorrere. Ancora la vicenda dell'autostrade. Poca sicurezza, scatta l'inchiesta. La vicenda e il percorso verso le elezioni regionali in Abruzzo. Nella centrodestra, la nuova terna di Fratelli d'Italia. Morra, Marsilio e la sorpresa Foschi. Con la foto di Giorgia Meloni. E poi all'Aquila dell'antipasto paleolitico al caffè dei cafoni di Silone. Andiamo sulla pagina terramana per vedere che cosa propone il messaggero. La vicenda è i persimplic. Cassa integrazione per i 53 dipendenti in esubero. Andiamo a guardarla con più attenzione. Tavolo di mediazione tra azienda, comune, provincia e le parti sociali. Dovrà essere pagata per un anno. La palla passa ora al Ministero del Lavoro. Anche sul messaggero la vicenda di Denis Cavatassi. Attenzionata a pena di morte. L'ambasciatore è andato a trovare Denis Cavatassi in cella. Il tortoretano condannato alla pena di morte perché è giudicato il mandante dell'omicidio di un connazionale, suo socio in affari, che ha ricevuto la visita dell'ambasciatore italiano a Bangkok, Lorenzo Galanti, nel carcere di Nankomsi Tamarat, spero di averlo pronunciato bene, a sud del paese dove è detenuto. Ha parlato a lungo con il signor Cavatassi, trovandolo in buone condizioni fisiche e morali. L'ho rassicurato sull'attenzione e il massimo impegno con cui la Farnesina e le istituzioni italiane seguono il caso, ha dichiarato l'ambasciatore, insediatosi da pochi mesi. Comunque è una vicenda importante e comunque un nuovo passo importante. Intanto schianto in A14, ferite due donne grave all'autista e poi Verna, il re delle preferenze, che lascia il PD dopo 20 anni di militanza e di successo alle comunali, aderirà al gruppo misto. Chirurgia e ortopedia, niente controlli, niente interventi, scusate, sono saltate due sedute dedicate alle operazioni al centro della vicenda, ancora lo stato di gestione degli anestesisti, sei dispensaristi riescono a garantire solo le urgenze, non riuscendo a presenziare agli altri eventi programmati. Poi il giorno va, bonifica, ferma per colpa di Cavilli, anzi no, di Cavalli, avevo sbagliato, di Cavalli e Pitbull, nuova bufera giudiziaria, il rinvio a giudizio dell'ex dirigente Mariella Mastopieto, dell'attuale dirigente Corinto Pirocchi e dell'implicata Valeria Lecone e coinvolto anche il commercialista giudizio Marco Fradicelli nella sua qualità di amministratore unico. Stavo guardando insomma di che cosa, cioè come era incastrata la situazione di Cavalli e Pitbull, insomma poi avremo tempo di leggerlo nella giornata. Andando direttamente sul cartaceo, ancora la cronaca spaccata con il furgone, poi un boato e la fuga, la vicenda di cronaca di ieri all'agenzia di scommesse Golbet di Santicida della Vibrata, almeno tre persone con il volto travisato sono entrati in azione intorno alle 2.30 la scorsa notte nell'agenzia di via Vittorio Vene, sfondando la serranta e la vetrata interna con un furgone, poi però insomma come abbiamo letto nessun bottino per i malviventi, poi auto zigzag sul lungomare e fugge 21enne in manette. Depuratore e stadio, ad alba è momento di cantieri, sul Salinello ora è allarme allagamenti, un problema che assilla da tempo chi abita la bonifica del Salinello, ne parleremo tra poco con il consigliere comunale Nico Carusi, soprattutto chi abita ha le proprie attività nel tratto di strada che porta dal mare, ai confini di Giuliano, alla montagna, tratto ubicato nel territorio del comune di Tortoreto, il problema è quello dei rischi di allagamenti, visti alcuni inquietanti precedenti, contraccinazioni che hanno fatto danni e creato panico nella popolazione. Tempo per guardare anche sul messaggero l'attenzione data a Cairi a quel gol nella porta fortunata, il dipensore Rivela siamo sempre riusciti a vincere quando segno sotto i tifosi, l'arrivo di Maurizio ci ha dato grinta, però con il modulo 3-5-2 andiamo meglio il basket verso il tutto esaurito per Chieti Amatori e poi il basket con gli Sharks, Roseto Moreno, devo tutto a Roseto, grazie a Coach Trullo. Credo che siamo arrivati anche a concludere quello che è lo spazio dedicato al messaggero con una notizia di sport, anche in questo caso, attenzionato, Caidi che è stato protagonista nel turno che ha visto la vittoria del Terro. Dunque, prima la città, poi il centro, ora il messaggero, ci siamo presi un minutino in più per leggere un po' tutto con grande velocità, però abbiamo fatto un quadro della situazione, dei fatti di cronaca, ma anche di politica, insomma tutto quello che c'era da leggere sui giornali e che oggi leggerete se volete nella vostra giornata. Come sempre ci fermiamo con una pausa, io vi ricordo che c'è la possibilità di interagire, 368-8011-328 con il nostro ospite che avremo dopo la pubblicità con noi, il consigliere comunale di minoranza, Nico Carusi, guarderemo i fatti della politica e dell'amministrazione di Tortoreto e della città di Tortoreto attraverso i suoi occhi. Ci fermiamo dunque, a tra poco.